Allora, inizio rispondendo, inizio dall'arrivo di arrivare all'inizio, mi è stata fatta una domanda all'inizio del consigliere di un po' di grande domenica, parlo dalla fine delle ultime consiglierazioni che sono state fatte. Allora, rispetto a quelle che sono tutte le possibili soluzioni che possono migliorare la gestione di un settore che si deve piano, quale è quello del contenzioso, come tante e particolari sono le criticità che ci sono, chi mi apprecia più nell'attenzione di questo settore sicuramente lo può confermare, è l'amministrazione di Sittadini che impegnava sempre il primo gioco per cercare di individuare le strategie più giuste per poter arrivare a delle soluzioni ottimali per organizzare questo settore. Per quanto riguarda, cerco di rispondere per il suo spunto dai nostri faccini che tutti mi hanno fatto. In quarta commissione, inoltre, si è parlato di questo. Io ho precisato di avere già inviato i principi del maestro, il dottore Stratomontro, tante direttive fin dal primo momento in cui mi sono insediata, direttive per la riorganizzazione del pubblico, che è sostanzialmente che il pubblico venga potenziato perché effettivamente riconosco che è sotto di commissionario. E poi, quello che abbiamo fatto, qualcuno prima, forse consigliere scolari, consigliere, no, forse anche per consigliere, e mi chiesto come stiamo procedendo. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stata cercare di individuare un ordine di priorità e quindi capire un po' come, come eravamo ordinati all'interno del pubblico, perché la cosa che questa amministrazione vuole dare è che se nemmeno conviviti, in tali di accerti di statuti o impossibilità di trascadenza, o trascaduti, e quindi evitare che si possibiscono in giudizio quando già ci sono, che sono con grave decadenza e reclusione, ma stilano un ordine di priorità, quindi vi pare che è un periodo più giusto attraverso cui redigiano uno spedenzario, e questo viso, insomma, lo, già lo sta facendo, e con tutti i limiti e con un viso di questo tipo che hanno messo il sogno di un senato. Poi, per quanto riguarda il suo pregosto che ha carico dell'ente, diceva il consigliere di Pino Bavaro, che è assolutamente una delle nostre priorità di questo, e quindi il lavoro che diceva lei è delle statistiche, insomma, tutte le statistiche, per cercare di capire come è l'ente buon risparmio, ma resta sicuro che sono stati fatti operati proprio in funzione, ogni giorno parla, dopo rispondono, ha portato su una buona parte di questi dati, e insomma, ci sono stati fatti da parlare. Per quanto riguarda i limiti regolamenti, quindi, per il consigliere di Pino Bavaro, a questo proposito, io mi riallaccio a uno dei clienti, che per il cuore di questo mondo, insomma, mi dà una risposta unica, che è la vista di Pino Bavaro, che il consigliere di Pino Bavaro ha fatto le condizioni. E mi fa piacere che lei, il consigliere di Pino Bavaro, che è in presenza della prima condizione, in cui sono state fatte queste presunte interazioni da parte mia, su uno stop dell'amministrazione a questo regolamento, ha detto, io non ho sentito queste cose, mi fa piacere che lei ne ha detto, perché io mi sono ritrovata con una blog di dati pubblicata sulla Gazeta del Sud un giorno fa, e non ho avuto neanche la possibilità di editare quello che c'era scritto, e mi sono state ricordata dal consigliere, insomma, mi leggo nell'articolo, dal consigliere Pino Bavaro, del leggo di Pino Bavaro, vendendo un'attivazione che io non ho mai fatto rispetto al regolamento sul contenimento delle tecniche legali. Io immagino che ci sia stata, semplicemente, una... Si è stendendo. Si è stendendo un po'. Io immagino, voglio facciare, insomma, è un stop per scontare, assoluto, una buona tante di tutti. Però, insomma, io in Europa, estendo la prima condizione, è una nota di chiarimento. Probabilmente non ci siamo... Perché mi piace pensare che non ci siamo capiti nel momento in cui io ho una domanda che è stata fatta al gamba della prima prescorsa. E il suo regolamento relativo al contenimento dei differenti legati in questa amministrazione è una dichiarata lunga, una del più che ferma, ma non una dichiarata lunga. Io ci devo che ci sarà anche la parte della cittadinanza che probabilmente nel giorno dell'articolo sul giornale si sarà fatta, anzi, non mi darà sbagliata, perché non ho neanche la possibilità di editare. E allora io dico, che probabilmente è una dichiarata che non ci siamo capiti a chi è stata espressa male. Non lo so. Però lei mi ha chiesto in condizione, però non è un argomento del giorno. Abbiamo regolamento sul contenimento dei differenti legati? E io le ho risposto no. Quindi come regolano i contenuti di post-itali e di informazioni in cittadinanza? Ho fatto il contenimento semplici minato tra le varie avanzazioni che sarebbe stato oggetto di trattazione negli aborti e condizioni con i giorni dopo. Questo solo ha anche un'ottima di chiarimento di quello che è stato detto. E poi un'ultima cosa importante è che il Presidente è lungo il futuro. Rispetto a questo regolamento, io, il consigliere con Giovanni lo, ovviamente, la compilizzazione sta bandando quale c'è vicenda che avreste a costo. Mi trovate perfettamente d'accordo sull'interno. Quei ricimi che nel regolamento vengono spessivamente richiamati di trasparenza ed economicità che si piacciono e di efficienza sull'azione della pubblica di distanziosità e dell'espirazione. Sono questi i miei cibi a cui noi fino a questo momento da quando ci siamo inseriti ci stiamo ispirando. Noi abbiamo continuato con la produzione degli carichi in maniera e perfettamente conforme ai medici di legge e ai medici di legabilità che di rafforzare. Perciò riguarda mi trovate anche d'accordo sul rispetto che deve essere garantito dei medici deontologici anzi su questo mi piacerebbe confrontarsi in maggioranza e posizione per capire cosa significa rispetto dei medici deontologici a cui si fa il terimento regolato. Su questo mi trovate perfettamente d'accordo perché una delle utilità di giorno da facette da dire organizzazione è quello di espirare un evento di legati e purtroppo diversità che abbiamo riscontrato che si stanno in situazioni di compatibilità rispetto a di compatibilità con legge e quindi rispetto dei medici deontologici dei medici di trasparenza con i medici di legame di legge 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 a cui noi fino a questo momento ci siamo estirati e continueremo a farlo rispetto a sua domanda io non ho fatto nessuna dichiarazione ma non c'è niente adesso non c'è nessun stop l'amministrazione che fa un tanto che fa che fa che fa la soluzione migliore ma non non però nessuno ha un'altra giusta rispetto al nostro regola visto che non ho ancora possibilità di applicare con la stampa non ci ho qui da appunto la comissarazione ha ragione da tutti i consiglieri e da tutti i interni che mi stanno ascoltando grazie